Nel mese di agosto, periodo clou per le vacanze degli italiani, aumenta in maniera considerevole il numero degli animali abbandonati per le strade. Cani, gatti, criceti e altri animali, quelli cosiddetti di compagnia, che vengono lasciati al proprio destino. Ogni anno su tutto il territorio nazionale il bollettino degli animali abbandonati conferma la triste realtà di un fenomeno che non cessa di verificarsi. Infatti l'Italia è tra i primi posti a livello europeo per numero di animali abbandonati. Un problema che a Teramo si sta cercando di combattere con iniziativa promossa dal Comune Associazione Animaliste. Proprio alla vigilia delle giornate di maggior reso d'estivo, lanciando insieme la campagna di sensibilizzazione Io non ti abbandono. Lo spirito della campagna è quello di ricordare a tutti che l'amore per i nostri pelosi non va in vacanza. Arriva il momento delle grandi ferrie e quindi vogliamo portare l'attenzione dell'opinione pubblica. Una campagna per combattere il fermo dell'abbandono degli animali, soprattutto dei cani in questo periodo. Quindi diciamo non all'abbandono, chi deve partire e trovare soluzioni alternative. E nello stesso tempo invitiamo i cittadini all'adozione degli animali. Noi abbiamo tantissimi bei cani nel canile di Carapollo che non aspettano altro di essere adottati. Quindi contemporaneamente diciamo non all'abbandono e diciamo sì all'adozione. E poi tra l'altro oggi annunceremo pure che vorremmo mettere in campo nei prossimi mesi, in collaborazione con l'ASL, una campagna per la sterilizzazione degli animali. Cercando di limitare il numero perché poi vedere questi tanti animali chiusi nei canili non è una cosa bella. Penso che l'abbandono sia uno degli atti più ignobili che un essere umano possa compiere perché poi un animale che ti sta vicino, sta dentro casa, lo tieni, lo cura e dopo lo lasci così buttato in mezzo alla strada. È gravissimo. Quindi da qui nasce questa esigenza come assessorato al benessere animale di portare avanti, di lanciare questo messaggio. Non l'abbandono sia l'adozione. Poi ricordiamo che comunque abbandonare gli animali è un reato. È un reato, sì, è punito, quindi ricordiamolo perché se qualcuno poi verrà individuato va contro legge e quindi deve fare anche molta attenzione sotto questo aspetto. Io mi auguro che questo messaggio faremo una campagna pubblicitaria, metteremo dei manifesti separate lungo via la Cire dei Cassi per ricordare a tutto che questa scelta infelice non va fatta.